Grazie per la visione! Luca! Faccio il 5 Luca che non ti segue! Vai Cri! Bravo Cri! Bravo Dami! Anche Luca eh! Non te lo fai anticipare! Bravo Cri! Stai lì Luca! Stai lì in mezzo Luca! Stai lì in mezzo Luca! Vai vai! Bravo! Questo non ti lo fai! Grazie! Dai! Siamo ora bravo! Ok in mezzo Luca dietro! Non ti dico? Anche a te! Non ti dico? Dico? Vi lo tiro! Un bel dico? Un bel dico! Un bel dico! Un bel dico! E? E? 40 40 vai Cristian vai Nicola no non c'è su uno ragazzi bravo Lucca 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 Cristian fuori chiudi dai Matteo che tu ha fermala fermala faccio davanti girati Cristian vai Armia bravo no c'è un pallone di più fuori dai Manuel alzati Armia su fuori Armia fuori Armia vai Lory vai 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Vai Armia vai Dai sale Dai Avanti Alzati Bravo Lory Bravo Lory Mamma mia questo pallone che rimbalza Vai Lory vai Vai Armia Ancora Vai Mezzo Vai Mezzo Vai Mezzo Vai Mezzo Vai Mezzo Vai Mezzo Fire Bravo uscita posto